Immaginate di voler realizzare un'applicazione e-commerce, un'applicazione che possa essere ovviamente sia web che mobile. In questo caso dovreste avere competenze di back-end per scrivere il codice, di grafica per disegnare appunto l'applicazione e di front-end per collegare appunto il back-end alla grafica. Oggi è nata una start-up, Market Cloud, che risolve il problema di doversi imparare tutta la parte di back-end, che spesso è anche quella più complicata, sostituendosi con un servizio che permette appunto di creare in maniera molto più semplice tutte le tavole dei prodotti, delle categorie eccetera. Ci spiega meglio come funziona oggi Mattia Alfieri, uno dei fondatori. Ciao Mattia. Ciao Michele. Mattia spiegaci un po' non solo cos'è Market Cloud ma anche come è partita la tua esperienza come imprenditore, qual è stato il tuo percorso e dove siete sostanzialmente oggi. Allora Market Cloud inizia qualche anno fa, circa nel 2013, come un marketplace. Quindi diciamo che era abbastanza diverso da ciò che in realtà è oggi. Eravamo un marketplace con l'accento sulla brand awareness di chi andava a vendere. Quindi molti venditori si lamentavano del fatto che sui grandi marketplace come eBay ed Amazon non potevano comunicare con il proprio pubblico la propria identità, il proprio marchio. E quindi abbiamo realizzato un marketplace che permettesse quindi al proprietario dell'attività di comunicare meglio il proprio marchio e il proprio brand. Successivamente però ci siamo accorti che la maggior parte dei nostri clienti o dei nostri potenziali clienti ci chiedevano di poter vendere online, quindi di poter utilizzare il motore del nostro marketplace, però potendo customizzare ed editare la parte grafica, quindi poter avere controllo assoluto su quello che era il frontend appunto. Quindi ci siamo detti, visto che noi siamo tecnici e abbiamo separato la parte frontend dalla parte backend, perché non proviamo a vendere direttamente le nostre API, la nostra parte backend ai developer di questi prodotti e-commerce e la risposta è stata molto positiva effettivamente. Innanzitutto perché abbiamo cercato casi di successo nel mercato e ne abbiamo trovati. Pochi anni fa è partito il filone dei backend as a service proprio come il nostro prodotto, quindi prodotti come Parse e Firebase sono spopolati, hanno fatto anche delle belle exit con delle aziende grosse come Facebook e Google e noi abbiamo poso questo concetto e l'abbiamo verticalizzato sull'e-commerce e così è nato Market Cloud. Quindi un sistema, come hai detto tu, un backend as a service focalizzato sull'e-commerce con un accento particolare sul mobile, perché abbiamo trovato che gli sviluppatori mobile sono quelli che più necessitano di un backend as a service, perché spesso non hanno le competenze necessarie per realizzare la parte server di un'applicazione e-commerce, ma soltanto quelle dalla parte frontend. Chiaro. Voi mi dicevi che siete partiti all'inizio, che eravate ancora all'università, comunque eravate in ambiente universitario, avete anche pensato di sviluppare all'interno dell'università il vostro progetto e poi avete cambiato idea quasi subito della realtà. Che differenza c'è un po' per partire come spin-off universitario, progetto universitario diciamo, o partire come startup, quindi mettersi completamente in propria? Allora, innanzitutto la differenza principale sono i tempi. Come sappiamo tutti, le startup devono correre, 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 mentre quando ti interfacci a volte con realtà più complicate come l'università devi stare ai tempi delle persone che sono coinvolte nel progetto. Nel nostro caso avevamo il vantaggio che l'università ci avrebbe permesso di accedere a dei contatti un po' più difficili da raggiungere per noi autonomamente, quindi delle aziende più grosse, però il problema è stato proprio questo, che i tempi di accesso a queste realtà era molto lento, andavamo di riunioni di sei mesi in sei mesi, non sto esagerando, e per noi erano tempi infinitamente lunghi che di sicuro non potevamo più sostenere, ecco. Quindi questo è stato il motivo principale per cui ci siamo staccati dall'università, e poi comunque secondariamente per avere anche una maggiore autonomia decisionale su tutte, insomma, dalle micro scelte alle macro scelte sul progetto, insomma, non poter, non dover più dipendere da un professore, per dirti, per noi è stato veramente importante. Cioè l'ingerenza della... Nel nostro caso c'era, perché comunque c'era un certo rapporto con questo professore, quindi all'inizio si pensava che questa cosa ci avrebbe solamente aiutato, e la realtà di fatto è stata che comunque ci dovevamo interfacciare con tutto la piramide dell'università e delle aziende coinvolte in questo rapporto, in sostanza. Rischia un po' di ritardo anche il go-to-market che... Paradossalmente sì, paradossalmente sì. Il progetto era anche nato in concomitanza con una call for ideas che si svolge nella nostra zona, nelle Marche, ed è una call for ideas che è anche sponsorizzata dall'università, se non ricordo male, e quindi ci siamo proposti proprio all'interno di questa competition. Quindi l'idea è nata proprio sia come università, sia come progetto start-up, questo mini ecosistema che c'è nella nostra zona, però ecco, in realtà di fatti il processo ci ha rallentato. Tanto è vero che quello che... la trasformazione che è avvenuta dopo è stata abbastanza radicale, perché prima l'idea principale era quella di interfacciarsi un po' con il mondo dei supermercati, quindi andare a permettere i supermercati di vendere online, mentre dopo ci siamo distaccati totalmente, andando più sull'e-commerce del negozio o del produttore, insomma, non prodotti da supermercato, ecco. Su un progetto come il vostro, comunque tecnologicamente è abbastanza complicato, servono competenze abbastanza specifiche, diciamo così. Come si fa? Voi avete, adesso siete nella fase di beta, siete usciti sul mercato, è possibile iniziare a utilizzare Market Cloud, avete realizzato un MVP che poi andrete e state testando. Come si fa a capire quali siano le caratteristiche giuste da inserire appunto nell'MVP per essere più veloci e andare a testare se poi in generale il prodotto interessi? Questa domanda è interessante perché per noi è stato un processo abbastanza difficile, devo dire, nel senso che essendo un prodotto per sviluppatori, essendoci uno standard nel mercato, abbiamo la necessità di offrire un certo numero di features, senza le quali non puoi realizzare un certo tipo di sistemi, ecco. Quindi abbiamo cercato, abbiamo fatto diverse iterazioni del nostro MVP e alla fine siamo riusciti ad arrivare dopo qualche mese a quello che noi chiamiamo, abbiamo deciso di essere il nostro primo serio MVP che è quello che abbiamo messo adesso sul mercato fondamentalmente. La difficoltà è stata nel riuscire a dire no a certe feature che volevamo includere a tutti i costi nel nostro prodotto perché sai a volte quando inizi hai in mente l'idea finale, ok, quello che vorresti vedere nel tuo prodotto, la realtà dei fatti è che non hai il tempo, le risorse e soprattutto non puoi permetterti di realizzare tutto il prodotto prima di metterlo sul mercato. Quindi ci siamo resi conto forse con un po' di ritardo quale fosse il nostro MVP ottimizzato e pensiamo di esserci arrivati adesso insomma. Quindi abbiamo individuato quali fossero le caratteristiche che deve avere cioè permettere allo sviluppatore di realizzare un'applicazione per vendere online. Quindi abbiamo individuato le risorse principali che come può sembrare ovvio che sono, sono prodotti, carrello, ordini, ma soprattutto la cosa che ci è interessato di più è stato offrire delle integrazioni minime con dei prodotti esterni come sono i gateway di pagamento come Paypal, Stripe e anche le interazioni con dei marketplace più blasonati come Amazon e ebay perché l'omnicanalità è un concetto importante almeno da un anno a questa parte quindi l'abbiamo dovuto introdurre nel nostro MVP perché tutti ce lo chiedevano. Certo. Quindi sostanzialmente oltre un po' appunto a sentire il mercato avete cercato di risolvere il problema principale cioè andare a vendere online perché alla fine l'obiettivo finale rimane quello. Certo. Nello sviluppo però del vostro progetto voi siete un team che ha competenze appunto tecnologicamente molto avanzate ma immagino aveste all'inizio competenze di e-commerce nello specifico meno radicate. Quanto è stato importante per voi anche sviluppare questo tipo di competenze per far seguire la logica strategica appunto della mi serve solo vendere nella realizzazione poi del progetto? Sì allora dell'e-commerce noi curiamo la parte tecnica appunto come hai detto tu però nel mondo e-commerce la parte fondamentale è appunto il business quindi è fondamentale comunicare a imprenditori e-commerce che non basta avere la piattaforma online per poter per poter vendere ma serve fare una serie di operazioni sul loro prodotto successive prima tra tutti una buona strategia di marketing sapere analizzare quali sono i loro clienti quali sono le esigenze dei loro clienti quali sono i migliori prodotti quindi la parte veramente difficile dell'e-commerce è come sembra banale ma è la parte di vendita insomma riuscire a vendere i propri prodotti e svuotare il proprio magazzino in sostanza la parte di la parte tecnologica deve essere solamente il mezzo che ti permette senza intoppi però che ti permette di vendere quindi l'MWP dell'e-commerce in questo senso delle business e-commerce è riuscire a vendere online capire quali sono i canali giusti e capire come portare utenti sulla propria applicazione sul proprio sito mi dicevi che avete anche in mente di fare proprio questa parte anche di formazione ai vostri clienti fra l'altro stiamo realizzando insieme un corso che uscirà breve sul come integrare market cloud per realizzare un primo e-commerce che sarà disponibile nei prossimi giorni come state sviluppando questa questa parte quanto è importante quanto vi viene richiesto dal mercato sì allora diciamo che questa parte nasce soprattutto per soddisfare quella parte di interlocutori che abbiamo che non sono sviluppatori o web agency o software house ma sono appunto imprenditori e abbiamo realizzato una piccola partnership diciamo con una collaborazione con altre startup che sono della nostra classe o della classe precedente del del nostro acceleratore vk qua a bologna sono che siamo circa quattro startup e cerchiamo di coprire tutte le aree tematiche dell'e-commerce dalla parte di marketing advertising dalla parte di customer care e la parte tecnica di cui ci occupiamo noi quindi lo scopo di questo progetto parallelo che si chiama e-commerce artisans è proprio quello di prendere l'imprenditore e-commerce oppure l'imprenditore che vorrebbe entrare nel mondo e-commerce e fornire le competenze per fargli capire che cosa significa prendere il proprio business e metterlo online che non è come dicevo prima soltanto avere un sito un'applicazione per vendere ma anche tutto ciò che c'è intorno con la cerba intanto iniziamo a fare il primo test vediamo se già i nostri utenti riescono a mettere online il primo avvp mi dicevi che tra l'altro voi poi nello sviluppo siete partiti tu e simone il tuo socio e poi pian pianino anche all'interno di vk del team vk qua a bologna avete iniziato a prendere collaboratori che vi aiutassero soprattutto dalle università offrendo stage e facendo fare a questi ragazzi dei percorsi come avete fatto a trovarli selezionarli e poi effettivamente si riesce a prendere dall'università un qualcuno che poi riesca effettivamente a fare un lavoro efficace che voi potete poi utilizzare commercializzare sì allora c'è questo mito forse del tirocinante che non so fare quasi nulla perché l'università non insegna nulla che potrebbe anche essere vero poi si dimentica che il 99 per cento dei casi una persona che ha una grandissima voglia di imparare e soprattutto una grandissima capacità di imparare infatti sono stato sorpreso anch'io di come prendendo i ragazzi che hanno svolto tirocini tecnici quindi diciamo hanno fatto la parte di sviluppo software da noi sono riusciti questi due ragazzi sono riusciti subito a entrare nel sia nel mood della startup che a essere all'altezza della situazione anche se non avevano grossissime esperienze pregresse se non quelle dei piccoli progetti che fanno all'università quindi è stata un'esperienza del tutto positiva siamo riusciti a prendere questi ragazzi fornirli le competenze di base riguardante il nostro prodotto le altre competenze le avevano loro oppure le hanno autonomamente integrate senza che dovessimo fare delle vere e proprie lezioni per loro e hanno scelto di completare con noi il tirocino addirittura siccome gli è piaciuto il progetto hanno anche deciso di realizzare la tesi di laurea con presso di noi insomma quindi è stata un'esperienza del tutto positiva anche perché sono stati con noi più di quattro mesi se non ricordo male e quindi spero proprio che una volta laureati riusciremo a continuare a collaborare con loro non più da studenti ma da professionisti insomma Simone invece ha seguito anche dei ragazzi che fanno dei tirocini non tecnici quindi non parte di sviluppo ma più che altro sulla parte marketing e anche con loro è riuscito a creare un progetto ben definito con delle scadenze con dei risultati tangibili e siamo super soddisfatti del lavoro che stanno svolgendo veramente ecco ma poi come si gestisce effettivamente una persona nel senso qual è il modo migliore secondo voi di portare questi ragazzi che probabilmente appunto arrivano con competenze teoriche più che pratiche perché non le hanno mai messe poi in campo nella realtà dove ha un peso poi effettivo sul mercato come si fa un po' a indirizzarli magari non so dargli delle scadette quali metodologie utilizzate voi per cercare di gestirli al meglio? sì allora diciamo che la sincronizzazione principale la usiamo creando dei documenti, dei tool o un calendario fondamentalmente in cui si dice ragazzi questo è l'obiettivo finale questi sono i piccoli step intermedi cerchiamo di portarli a termine seguendo queste deadline bene o male anche se devo dire la verità che non abbiamo mai fatto diciamo micromanagement del loro operato sono sempre abbastanza liberi se non nel fatto di dover riportare quello che hanno fatto durante la settimana o durante il giorno ecco quindi cerchiamo di lasciare massima libertà però cercando di controllare che l'obiettivo finale o quello intermedio siano comunque bene in mente insomma si sta seguendo una linea Mattia tornando invece al prodotto voi avete come slogan, come moto, proprio mobile first quindi vi siete concentrati soprattutto come dicevi sul permettere a sviluppatori mobile di realizzare il back end un po' quali sono i trend che voi vedete sul mercato dell'e-commerce perché avete fatto questa scelta e secondo te in futuro come andrà evolvendo questo settore? sì allora il motivo per cui noi ci siamo focalizzati sul mobile è come dicevo perché abbiamo osservato due trend fondamentali la prima è che non è un segreto è la crescita smisurata del mobile nel senso che si sta mangiando fette importanti di mercato al mercato desktop tant'è vero che non si parla più di installare software sul computer se non nell'ambito lavorativo ma si parla di installare app sempre più spesso un altro trend in forte crescita soprattutto nei paesi in via di sviluppo è l'e-commerce perché questi paesi comunque stanno adesso uscendo online quindi noi abbiamo preso questi due trend e abbiamo cercato di metterli insieme un caso famoso diciamo in uno dei paesi in via di sviluppo che è l'India è il caso di Flipkart Flipkart è un grosso e-commerce indiano è un caso interessante perché avevano inizialmente soltanto il sito web e poi in realtà hanno realizzato l'app nativa mobile e hanno osservato che avevano molte più entrate dall'app mobile e quindi hanno deciso proprio di dismettere la parte di vendita dal sito web quindi Flipkart è un e-commerce che è solamente mobile ci sono tanti studi sul fatto che il mobile ha diversi vantaggi per l'e-commerce soprattutto se pensiamo ad esempio alle push notifications quindi quando possiamo inviare delle notifiche sullo schermo del telefono dell'utente dicendogli e guarda c'è un nuovo sconto perché non vieni a controllare la sua applicazione quindi si è riscontrato che magari l'e-commerce mobile ha un tasso di conversione molto più alto rispetto all'e-commerce web classico anche se è più difficile magari per caso di costi più alti perché comunque bisogna realizzare delle applicazioni che oggi come oggi hanno ancora dei realizzare un'applicazione mobile da un professionista costa diversi soldi in sostanza rispetto a un classico sito web e-commerce però è sicuramente un caso interessante poi ci sono diverse proiezioni riguardo al mercato del mobile che lo danno in forte crescita almeno fino al 2018 quindi ci è sembrata un'occasione da non perdere insomma quello del mobile commerce certo, voi permette di fare il back-end sia per applicazioni native che per applicazioni web sì esattamente, noi abbiamo rilasciato degli SDK quindi dei tool di sviluppo sia per Android che per iOS che per la parte web perché un altro trend nel mobile è quello di realizzare applicazioni ibride che permette di realizzare applicazioni multiplattaforme quindi che girino sia su iOS che non su Android che su Windows Mobile senza dover realizzare tre applicazioni diverse ma soltanto una e questo è importantissimo per realizzare una prima applicazione senza spendere un'esagerazione in sostanza quindi abbiamo cercato di coprire tutte le tecnologie mobile possibili e adesso ci stiamo concentrando anche molto sulla parte di comunicazione e di documentazione sulla parte proprio ibrida quindi abbiamo rilasciato diversi tutorial per il framework Ionic che consente appunto di realizzare applicazioni ibride quindi web ma che poi impacchettizzate dentro un'applicazione nativa chiaro, certo i prossimi step invece di Market Cloud ora avete pubblicato appunto la beta siete sul mercato qual è il prossimo obiettivo che vi ponete a breve termine? allora adesso la parte che ci interessa di più è proprio andare sul mercato aggressivamente e cercare di vendere il più possibile perché abbiamo speso del tempo nello sviluppo e vogliamo vedere se quello che abbiamo fatto ha portato, porta i suoi frutti quindi i prossimi mesi saranno di presenza sul mercato e di test oltre che di, diciamo, testing anche sul lato marketing ok, quindi cercheremo di buttare dentro utenti il più possibile oltre che produrre documentazione produrre esempi e produrre articoli che possano spiegare al meglio ai nostri sviluppatori come realizzare applicazioni mobile e web con Market Cloud successivamente, però qui parliamo un po' più del lungo termine vorremmo aggiungere delle feature perché comunque noi abbiamo la nostra piattaforma di integrazioni che ci consente di appunto integrarci con nuovi sistemi di pagamento che potrebbero richiederci clienti o nuovi marketplace o nuovi servizi di email qualsiasi applicazione che i nostri developer vogliono integrare noi possiamo integrarla facilmente a seconda della richiesta che ci viene fatta ho capito, perfetto beh, intanto iniziamo a mettere un qualche competenza in più online con il corso che intanto Simone nell'altra stanza sta finendo di registrare perfetto, ci hai dato tantissimi consigli utili come ultima domanda ti chiederei di dare come facciamo sempre tre spunti, tre suggerimenti a chi inizia oggi la propria attività a chi magari vuole mettere su il proprio primo marketplace scusami e-commerce per la sua startup sì e iniziare allora quello che consiglio è sicuramente di cominciare subito a parlare con i propri clienti quindi individuare chi è il cliente individuare quali sono le necessità del cliente e andarli a prendere, andare a comunicare, andare a vendere questa è la cosa principale che consiglio a tutti fondamentalmente la più importante quindi da questo si può iniziare a capire insomma se quello che si sta facendo ha un senso o meno insomma perché la cosa principale è avere un riscontro dal mercato quindi bisogna alzarsi, andare a parlare con le persone e provare a vendere il proprio prodotto e come seconda cosa penso che sia importantissimo anche l'aspetto comunicativo di quello che si sta facendo raccontare la propria storia perché comunque in questo modo si può comunicare il perché io sto facendo una certa cosa e magari posso anche dare modo agli altri che mi stanno intorno di darmi dei consigli soprattutto un'altra cosa importantissima perché anche e soprattutto nella nostra esperienza essere dentro un acceleratore avere tante startup intorno ci ha consentito di ricevere tantissimo feedback e penso che sia stata la cosa principale nei mesi del percorso di accelerazione quindi il feedback degli altri è veramente fondamentale e mai da sottovalutare e come ultima cosa mi sento di consigliare di essere determinati questa forse è la cosa principale abbiamo visto diversi casi di progetti comunque che si interrompono perché per mancanza di focus su quello che si sta facendo fare startup così come fare business purtroppo o per fortuna richiede tempo e il tempo bisogna dedicarglielo full time non può essere un hobby non può essere il gioco della sera o del fine settimana bisogna dedicarli veramente tutti i giorni dal lunedì alla domenica e viceversa anche di più se ci fossero più di 24 ore non sarebbe male e vabbè almeno così riusciamo a dormire ogni tanto anche noi dai perfetto grazie mille grazie a te e alla prossima ciao ciao